Oggi ho talmente tanta rabbia, repressa dentro di me, che non ho manco il coraggio di essere ansioso. Io voglio vedere una partita senza paura, perché non abbiamo più niente, niente da perdere. Ci abbiamo 10 punti di distacco dal quarto posto, ed è proprio occupato dall'Atalanta, quindi metteteci le palle. Io voglio vedere una partita giocata a viso aperto e senza paura. E detto questo, è Roma-Atalanta, live reaction, voi già sapete come è andata a finire. Lo dico, ma saranno gioiosmadonne, non me fate incazzare. E detto questo, quando e se arriverà il buon Fabio, visto che sta ancora al lavoro, metta la portona qua. E non me fate girare il c***o, ce ne vediamo tra poco, voi non c'entrate niente. Ce ne vediamo tra poco, vai! Fatta la cacca, il c***o si sciacqua, bidibibodibide. Dai, lavati il c***o anche tu come me, bidibibodibide. Se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio, ma anche e soprattutto sulla vostra squadra del cuore, ragazzi, sto per proporvi un modo completamente gratuito per farlo. Cliccate sul link in descrizione e andate a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Risultati delle partite in tempo reale, notizie, curiosità e statistiche. Tutto a portata di app e in maniera completamente gratuita. E detto questo, andiamo che sta per cominciare. Mamma mia! Tagliè! Sono partiti! Mi raccomando! Magna la pizza, ecco. Mamma, hai sei e mezza, ce ne ho come i vecchi dei 90 anni, sì, c'ho fame. No! Mamma mia, regà. L'ho vista brutta. Movite, chiudilo, 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 chiudilo! Mamma mia, regà. Ha tirato. Ha tirato Paolo Lopez a parato. Era centrale, ragazzi, ma Marinoski ha quella qualità, tocca far più attenzione. Ma per chi? Non era manco fuori gioco. Mamma, che chiusura, ragazzi, mancini. Attento! Attenti che prestano! E Dzeko oggi, da solito, alla sinistra, poi è diventato alla destra. Dzeko alla destra e Mkhitaryan che va... Ma va dentro a Pialla di Capoccia. Ce la faremo a fare un gol. Un gol! Guarda che... Passaggio sbagliato, palla per loro. Mamma! Dai! Mamma mia! Era un'ottima occasione. Tre contro due! Meno male, va. Occasione pericolosa, ragazzi. Molto pericolosa. No! È sciampato! Tre contro uno! Lo fiamo! Mamma mia! Paglietti! Tiro del me*****o! Angolo! Era... Ragazzi, era angolo! No, pensate no? Lo fa! Mamma mia, tu! È impressionante come con una verticalizzazione arrivano al tiro. È impressionante! E Dzeko continua a fallare la destra. È da falle a caso. Ma perché d'allarghi? Invece che da profondità, perché d'allarghi? Guarda, 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 ci facciamo trovare completamente scoperti. Due contro tre. Lo fa. Lo fa. Ha fatto un'altra parata! Terza parata, questa è la più bella e la più difficile. Non gli devi conciare tutti i sui spazi! Pronti, Cossi, Cossi, su primo parla di mezzone. Porco! Ma troppo spazio, gli lasci! Ma sta in due, no? Ce n'ha due! Come c***o l'ha fatto a anticipare e a metterci al piede lui? Come c***o l'ha fatto? Perché glielo fai fare! Hai smesso di giocare. Hai fatto i primi venti minuti semi-decenti? Basta! Basta! Hai smesso di giocare! Ecco, questa è la punizione. Cartellino giallo netto. Cioè, stavi a prova a segnare e hai regalato una ripartenza pazzesca. Erano già due contro uno. L'ha dovuto stendere. Niente, regà. Niente, regà. Niente, regà. Spenti completamente. Cioè, se è spenta proprio la luce. Se è spenta. Completamente. Ci hanno sempre libere le linee di passaggio sullo stretto. È incredibile! Incredibile! Sullo stretto li fai giocare! Come niente fosse! Sembravo birilli! Segna. Lo fa. Mamma mia, un'altra parata dai paolo. Io non ce la faccio più. Io ve lo giuro non ce la faccio più. Non ce la faccio più! Cioè, se stavo a fa' a segnare! Tre contro quattro. Tutti fermi. Tutti fermi. Mo segna. Mo segna. Completamente da solo. Stanno a far cazzo che gli hai pare! Niente. Niente, si è fatto un c***o a palla. Niente. Niente, a tua anzapata non gliela togli. Stai sempre in ritardo su tutti. Non mi sembrava riporre il contatto, onestamente. Io non... Porco c***o! L'ennesimo tre contro due. Fallo! Non mi dica il doppio giallo. Niente, Collini era già pronto all'anticipo. L'ha presa tranquillamente con le mani. Non riesci manca a imbucare. Non riesci. Non riesci manca ad imbucare. Anticipi continui. Anticipi continui. Niente, guarda, guarda, guarda. Trovano spazio. Come niente! Cioè ragazzi ce stanno a rincoglioni! Mamma mia, un'altra... Un'altra occasione, un'altra occasione. Un'altra occasione. Guarda, guarda, entra lì in aria. Come niente fos... Oh, siamo birilli! Lo fanno. Lo fanno. Lo fanno. Mamma mia. Mannaggia. Che mannaggia. Guarda, guarda, guarda. Anche quando stai in anticipo te la tolgono. O forse ti ravele tu, regà. Regà, forse ti ravele tu, regà. Alla Fiorentina segnava sempre su punizione. Ma vaffanculo vuole tu, va! Regà, capirai. Capirai, regà. Questi fanno entra a Muriel e Pasalic, regà. Questi fanno entra a Muriel e Pasalic. Ce crepano. Ce crepano. Oh, finalmente è arrivato un tiro! Finalmente è arrivato un tiro! 60 minuti per vedere il secondo tiro! È in azione semi-manovrata! È gol! Ma che sei maniato! Mamma mia che sei maniato! Qua ti ha graziato! Qua ti ha graziato! Gli ha chiamato la palla, la doveva solo appoggiare le rete e l'ha buttata fuori. L'errore è suo! Ma vattene affanculo! Cartellino rosso per Gosens. Ma tanto questi sono talmente forti che pure in dieci giocano bene. No! Che è giocata da campione ma la portano amici. È girato benissimo, regà. Sinistro e sta palla che sale. Ma che gol hai fatto! Ma che gol! Mi sento male, regà. Io mi sento male. Ma guarda che gol! Vai a dire, vai a dire, vai a dire! No! Ancricka! Ancricka! Ancra...